Sarà il concerto sinfonico di Roberto De Simone a inaugurare l'edizione 2019 della rassegna Luglio Musicale a Capodimonte. Il 7 e l'8 luglio sarà il nipote Alessandro De Simone a dirigere le orchestre che si esibiranno in due momenti. Sono stati infatti installati due palchi sul Belvedere all'interno del cortile di ingresso del museo per una serata che si preannuncia molto suggestiva. A illustrare i particolari del concerto sinfonico e del programma intero della Kermess la direttrice artistica Elsa Evangelista e il direttore del museo di Capodimonte Silvain Bellenger. Questo progetto è nato a casa Roberto Di Simone da un incontro tra me il direttore Bellenger e il maestro Di Simone. Il maestro Di Simone si è ispirato per questo concerto ad una delle più alte liriche di Salvatore Di Giacomo a Capemonte che colloca proprio l'immaginario poetico del Di Giacomo, colloca proprio il tutto al bosco di Capodimonte e dinanzi al Palazzo Reale. Luglio Musicale, che è la quarta edizione di questa bellissima serie di concerti, inizia alla grande con un concerto concepito, scritto, immaginato da Roberto Di Simone. Quando si parla di Roberto Di Simone si parla immediatamente di musica classica ma anche di musica popolare. Non so chi potrebbe come Roberto Di Simone legare Mozart e la musica napoletana. e lui lo fa con una grande sensibilità, grandissima sensibilità, con un programma che non potesse essere fatto in un altro luogo che Capodimonte perché si chiama proprio Capomonte.